Molta palla persa dal Milan e c'è il gol, incredibile errore nostro, incredibile errore di Krunic e gol del Celtic. Ancora il cross da parte del Celtic, allontanato palla Romagnoli e poi c'è la grande parata di Ciccio. Qui rivediamo la parata di Ciccio e ancora Eduard e c'è il gol del 2-0 del Celtic. Incredibile. Il tiro è il gol di Akkan, Cialanoglu, Akkan! E c'è il gol di Sabu Kasti, perché c'è il gol di Sabu Kasti, un gol via l'altro anche per noi. Cialanoglu buca per Rebic, Rebic di testa per Castiglieco, Castiglieco, Castiglieco la palla deviata, che peccato. Auge prova a venire in mezzo, Auge prova a scattare, Auge, Auge ha re di rigore, Auge la pietta, lo splendido gol di Jens, Peter, Auge. Te l'avevo detto ragazzo, cuore Kanto nel secondo tempo. Attenzione, la grandissima, enorme parata di Ciccio. Attenzione Auge, Auge in buca per Brahim Diaz. Brahim Diaz fa uno scavetto delizioso per il 4-2 del Milan. I due ragazzi del mercato, grande assist di Auge, grande gol di Brahim Diaz. Auge, grande soddisfazione, grande gol di Brahim Diaz. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.